buonasera a tutti sono luigi onaracu se preferite bentornati su turn to the talk and battle versione japp e si ragazzi alcuni di voi lo potrebbero star notando ho finalmente dopo appena quanto 5 6 anni comprato un vero microfono un rod nt usb e risconto sinceramente mi ero stancato del ruolo di sottofondo per il doppiaggio ieri stavo doppiando e 65 battute che poi ho visto avere tutto il rumore sottofondo insopportabile aperto amazon comprato ma torniamo a noi con l'analisi di androide 21 che è ritornata proprio a causa di questo acquisto perché ho preferito aspettare portarla con questo microfono che dovrò ancora imparare regolare ma di sicuro sarà già 100 volte meglio di quello che avevo prima androide 21 pg uscito abbastanza di sorpresa che va a unire il festeggiamento di eros a un festeggiamento android grazie anche all'esa che avremo a breve e giovedì porteremo lo showcase della lr degli androidi quelli fisici e che ho già testato in live settimana scorsa con risultati abbastanza altalenanti io l'ho trovata la prima multi e poi ho smesso di pullare ragazzi non è un pg obbligatorio ma andiamo con ordine 16.670 hp 11.822 attacco e 9.513 di difesa leader androide imagine power e peppy gals con bonus a power absorption transformation boost o crossover parliamo della leader skill io l'ho provata per adesso molto bene imagine power abbastanza bene peppy gals e poi androide in cui sinceramente abbiamo fatto poco ma abbiamo vinto tutto imagine power come leader purtroppo la reputo inferiore super boo è stato un parto fare la quattro item da zamasu vabbè mi sono ostinato a farla quattro item in realtà quindi non è giusto dire che sia inferiore super boo perché se andavo con la sei item che ho fatto con super boo chiudevo molto prima anche grazie alla nuova evil 21 comunque doppio super boo contro zamasu soltanto da più cose quindi sì ho sbagliato e l'ho dato troppa merda su questa frase con imagine power funziona ma non è leader imagine power che ci voleva imagine power ancora molto scarso peppy gals invece cambia la storia questo pc in peppy gals è una cosa fantastica davvero efficiente funziona da dio e ha reso il team solido in una maniera imbarazzante non è il miglior pg di bull ma la supera di gran lunga alcune difficoltà ma tanca decisamente meglio in peppy gals che in imagine power in androids infine se l'è cavata molto bene è stata una rana abbastanza rapida e senza nessuna difficoltà vera e propria quindi come leader e il leader peppy che volevo non è leader imagine power che volevo ci sta però imagine power ha avuto non chissà quali supporti negli ultimi anni quindi è purtroppo accettabile passiva attacca difesa 150 per cento due chia tutti gli alleati 120 per cento attacco e difesa nel momento in cui attacca e 50 per cento di evasione dopo gli attacchi nel suo turno due chia 60 per cento attacco dopo aver rivaso un attacco lancio un additional che ha 50 per cento di essere una special lancio un altro additional che ha 70 per cento di essere una special dopo che effettuato il terzo attacco in battaglia toglie l'azione all'avversario per una volta dopo nel momento in cui effettua il sesto attacco in battaglia e ha un 70 per cento di critico a partire dall'attacco numero 7 è un pc che si basa quindi molto sull'additional e riesce anche a buildarsi abbastanza bene aumenta l'attacco e la difesa nella special con un 50 per cento di stun in road funziona da dio in batte funziona davvero bene da zamasu pre special implode in generale negli eventi davvero difficili pre special implode post special se la cavicchia post special se la cavicchia arrivando pure a tancare dopo un tot di special ragazzi sta roba qua tanca anche la special di zamasu quindi non male non male abbiamo un active la trasformazione attivabile al partito del quinto turno contro un solo avversario che la trasforma in android 21 versione buona la special recovera del 5 per cento di hp il che davvero buono calcolando che sarà comunque buildata full additional 30 per cento di recovery una volta sola molto utile 210 per cento anche difesa e due chi a tutti gli alleati un ulteriore due chi e 121 per cento di difesa all'attacco e 21 per cento di damage reduction e 60 per cento di difesa nel turno dopo aver subito un attacco lancia due additional che hanno il 70 per cento di essere entrambi una special e ricarica del 21 per cento di hp quando ne avete il 60 per cento o meno a fine turno cosa posso dire del personaggio carino non è un personaggio su cui andare dip non è il personaggio che si aspettava è un personaggio assolutamente saltabile quindi partiamo con questo presupposto vuoi poter tranquillamente prendere sto banner che non è neanche chissà quale banner impressionante e buttarlo nel cesso non è né un pg né un banner che vale chissà quanto la pena stare a gestirsi e godersi si può tranquillamente lasciar perdere ciò nonostante per chi ama peppy gas può essere un'alternativa molto interessante come categoria peppy android transformation boost margine power battle of wits power absorption crossover quindi scuso battle of wits e tutti i categori che le tratta al meglio è normale che avere finalmente un nuovo leader sia androids che imagine power che peppy gas e tanta roba il problema è che nei link che si ritrova in in imagine power non se la cava troppo bene shocking speed android assault brainiacs non li prende al mess al massimo a bbb però a bbb un super con bbb che imagine power funziona ma bisogna cercare di gestirlo al meglio portandolo a livello 10 non è un pg che fa schifo è un pg che ha bisogno ancora che i suoi team si evolvano la versione peppy provata è una versione apposta per zamasu con un bel boost alle stazze con triplo buffer off rotation di una doppia rotation di lei la cattiva e bulma e lei la versione android è un android full danno con cell di androidi come cavolo si chiamano i hell fighter 17 sc17 agl quindi una versione che cerca di tankare il tankabile e infine la versione magine è l'unica magine attuabile in cui prova a stare in turno con super bu e non vedersi disintegrata quando viene attaccata prima gli manca un first turno oltre super bu nel margine per essere davvero buona ciò nonostante è un pg che di sicuro se la cava quindi aspetto con ansia di vedere la prosecuzio noi ci vediamo cerco già domani prima della live che sarà su lies of p dato che settimana scorsa il gioco non ce l'ha fatta fare connessione di merda cerco di pubblicarvi anche l'analisi della cattiva sempre che questo video non sia uscito di martedì in quel caso vi porterò domani mercoledì quella della cattiva ok buona serata ditemi come si sente e vi auguro una buon proseguimento